allo mora di nuovo mi vedete mi sentite è tutto a posto è tutto in ordine rispondetemi intanto grazie ancora fabio sono contenta che sia un piacere è ovvio non deve diventare ovviamente un lavoro e grazie a tutti ben arrivati ciao vale ciao silvio ho visto ciao dance floor ciao chi altro ho visto ciao iuri ciao pasquale ben arrivato e mi sembra di aver di aver salutato e recuperato tutti ciao bischi no scusa ma senza bacchetta perde di senso e allora bischi i grandi maghi fanno gli incantesimi anche senza avere la bacchetta in mano e ciao nicofan 92 ben arrivato grazie del tuo primo messaggio in chat ben arrivato ben trovato aspettate un attimo che intanto faccio partire il favoloso tappetino musicale e soprattutto mi sento mi sento io in cuffia un botto e non voglio sentirmi in cuffia io ok così perché se non mi viene da urlare parlarmi sopra e faccio un casino ok ora dovremmo essere meglio 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 allora oggi già abbiamo chiacchierato tanto di animali fantastici non si sente più si sente bassa adesso a me scusate adesso meglio ho abbassato il microfono anziché abbassare la cuffia adesso dovrebbe essere a posto ho rimesso il microfono com'era I'm very sorry ok meglio bene bene I'm sorry e ditemi se è alzo un altro pochino ma dovrebbe essere se sono bassa di altezza bischi allora mi fai prendere i colpi di altezza lo so che sono bassa sono corta meno cinque punti a tasso rosso ciao luca ciao luca ben arrivato ben arrivato sei venuto a giocare anche tu oggi qualcuno oltre te rischia di di vincere il titolo di vip del canale di dungeon dice e vip del gioco verso in realtà perché qui siamo precisi vip del gioco verso e quindi del canale di dungeon dice perché sia vinto si vincerà chi vincerà il il quiz potteriano che ho creato appossa per voi allora diventerà vip del canale scaldatevi siate pronti la mia idea è di vincere e rimanere nell'elite nell'olimpo nell'olimpo dei potteriani luca ho fatto delle domande difficili qualche domanda sarà veramente difficile comunque intanto volevo sapere da voi che siete tutti qua e qualcuno di voi ha visto anche la live di oggi con mario in cui abbiamo chiacchierato già di animali fantastici 3 eccetera eccetera se qualcun altro di voi l'ha visto oppure no per sapere un po' quanto effettivamente posso sbilanciarmi e dire la mia su questo ultimo film uscito nel nostro mondo preferito diciamo diciamo quanti di voi l'hanno visto oppure no io l'ho già visto due volte spero di vederlo presto in lingua originale in realtà recuperati i primi due film nel fine settimana non è il terzo non ancora visto cosa ne pensi dance floor intanto dei primi due film che hai recuperato pasquale visto due volte ben lo so ben lo so ben arrivato anche a te sinceramente io l'ho visto due volte in italiano questo posso dirlo senza fare assolutamente nessuno spoiler l'ho visto due volte in italiano perché sono stata a due anteprime e ovviamente erano due eventi dedicati quindi nella nostra lingua visto che negli ultimi due anni e mezzo ormai mi sono abituata a guardare tutto in lingua originale sono curiosa di rivederlo in lingua originale per varie motivazioni ciao chiara ben arrivata ciao vale che hai detto io non l'ho ancora aspetta non l'ho ancora vista ma non temo gli spoiler ansia ok bene buona sapersi parliamo di percy jackson giusto esatto chiara l'ha visto solo tre volte c'è visto solo tre volte di cui una in italiano e quindi puoi dirmi effettivamente chiara cioè puoi sicuramente rispondere alla mia domanda perché già ho sondato un po il terreno secondo me in italiano perde un po e puoi puoi forse confermarmi questa mia teoria in subito ecco non mi veniva la parola molta confusione la lord del wizard in funzione alla grande ma la trama generale è veramente fatta a caso dancefloor vi ricordo dei primi due perché ancora non ha visto il terzo allora il secondo è il risultato molto confusionario a tantissimi come dicevo anche oggi a me è il secondo comunque ha fatto arrabbiare per alcune cose però uscita dalla sala io ricordo di essere estremamente fomentata dal film che avevo visto e sinceramente questo se i segreti di silente non mi ha entusiasmato quanto avrei voluto uscita dal dal cinema i doppiatori sono sempre molto bravi ma l'ottima performance di alcuni attori su tutti judo e mazzo si percepisce di più in originale è la senza esattamente la sensazione che ho avuto io poi sono assolutamente d'accordo sul fatto che il doppiaggio italiano sia uno dei migliori nel mondo e è sempre stato così e sono una grandissima fan del doppiaggio in italiano però dal momento che sono abituata a vedere tutto in lingua originale riesco a percepire una differenza e un filtro e ora che sono abituata quel filtro è fastidioso ecco quindi aggiungo Depp non mi ha convinto per nulla nel ruolo di Grindelwald quindi confermi quello che ho già detto io oggi ma ve lo ripeto subito perché io non l'ho mai nascosto lo dico sempre Depp nel ruolo di Grindelwald a me non è mai non è mai piaciuto non mi non mi non mi è piaciuta proprio la scelta cioè il fatto che l'abbiano scelto non mi era piaciuto proprio in generale anche perché per i primi Harry Potter era stato fatto un lavoro riguardo al casting molto particolare si erano scelti soltanto attori inglesi perché era un'opera inglese e quindi si erano ci si era concentrati sul sul rispettare no anche questo questo modo di parlare l'accento eccetera eccetera ed è una cosa che a me è piaciuta cioè lo trovavo affascinante aveva un suo senso e andare a scegliere Johnny Depp quindi per un protagonista un ruolo così importante come Grindelwald ha rotto un po' questa magia cioè era palese che che era una scelta commerciale e non l'ho apprezzata perché secondo me il fandom di Harry Potter non ha bisogno di una scelta commerciale per poter andare avanti è uno dei dei fandom più importanti del nostro mondo e della nostra contemporaneità quindi qual è il senso di andare a richiamarsi addirittura un super attore cioè è passata quest'idea che per mandare avanti la saga c'era bisogno di un super nome non era così la saga andava avanti da sola ci sono alcune scelte che sono state fatte di casting in animali fantastici come Eddie Redmayne per Newt Scamander che sono perfette cioè nessun altro se non Eddie poteva fare Newt Scamander io lo trovo estremamente perfetto nel ruolo estremamente perfetto lui estremamente caratterizzato cioè Newt Scamander non me lo immaginavo diversamente da come è portato nei film Grindelwald non me lo immaginavo come Depp anche perché non sono riuscita a vedere oltre Depp non c'era nulla di Grindelwald nel personaggio che Depp ha portato sul grande schermo c'era Depp che stava lavorando benissimo ma stava lavorando per me dovevano scegliere Mads Mikkelsen fin dall'inizio ed è una roba che è una cosa che mi è piaciuta dei segreti di Silente cioè assolutamente un attore straordinario che fa passare quel senso di inquietudine e di fascino che Grindelwald deve avere non è un fascino pazzo è estremamente lucido Depp incastrato ormai in un personaggio pazzo fuori di testa che tutti amiamo ma su cui è rimasto incastrato è risultato un Grindelwald fuori di testa non un Grindelwald affascinante, convincente a cui tu a un certo punto pensi di dover dare ragione perché non dice cose estremamente sbagliate cioè ti convince, è proprio affascinante è affascinato Silente voglio dire Depp invece risulta pazzo e quindi per unirti al Grindelwald di Depp devi essere fuori di testa tu e così è risultata Queenie infatti stiamo comunque parlando del secondo film quindi non sto spoilerando niente e così è risultata Queenie infatti d'altronde vi recupero ci sono delle traduzioni che non sono del tutto fedeli me l'hanno detto infatti c'erano delle cose che a livello di frase non mi diceva niente poi quando mi hanno detto la frase in inglese mi è cambiato totalmente il senso ho detto ok, almeno quella cosa aveva senso si perde a volte il senso di una frase-espressione io l'ho visto in genovese sottotitolato in piemontese e ho dubbi di aver capito perché sembrava litigassero perché Grindelwald usava il prezzemolo per fare il pesto che è comunque un po' una bestemmia usare il prezzemolo per il pesto Luca secondo me dipende anche dal fatto che non avevano nessuna base è un'opera nata da loro e solo supervisionata da J.K. Rowling Luca dice che lo renderebbe il villain più malvagio della storia esatto, parlando del prezzemolo dice Pasquale tanto che in risposta ai risultati non troppo incoraggianti negli Stati Uniti hanno detto che Animali Fantastici fa parte di un progetto più grande anche loro sanno benissimo che i fan di Harry Potter si sarebbero catapultati in sala infatti il Grindelwald di Mikkelsen è molto più realistico e credibile secondo me, sono assolutamente d'accordo Chiara adoro un sacco il suo cinismo in alcune scene esattamente, esattamente sono estremamente d'accordo su questo ciao Andrea, ciao Mr. Simo ben arrivati, ben arrivati stiamo chiacchierando un po' di Animali Fantastici 1, 2 e 3 che qualcuno ha recuperato secondo me il finale di questo film è fatto in modo che se non va bene la chiudono qui e tanti saluti per me questo è un finale cioè non è un finale da saga perché io mi aspetto e parlo da fan in questo caso però ciao Fede mi aspetto il duello tra Grindelwald e Silente se non mi dai il duello tra Grindelwald e Silente per me questa saga non si può chiudere ciao Tonino Pinguino che bello vederti qui ciao ciao visto al cinema mercoledì mia sorella ha pianto una sua amica si è addormentata perfetto perfetta definizione di quanto secondo me questo film è divisivo è ancora più divisivo dei crimini di Grindelwald ancora di più perché le opinioni che leggo e che stanno arrivando da tutte le parti è di mi è piaciuto tantissimo al non mi ha detto assolutamente niente è estremamente divisivo cioè molto più dei crimini di Grindelwald secondo me però non hanno fatto cliffhanger cliffhanger fatti nei primi due quello è vero quello è vero ed è un problema di tutto il film cioè per me questo film è estremamente piatto ma dall'inizio alla fine anche i momenti di azione sono messi in alcuni punti che non boh mi sono risultati piatti a me non è piaciuto per niente trarre la parte scenica ecco divide meglio del cappello parlante sì dance floor esatto il fatto che non ci sia un cliffhanger non vuol dire che si possa chiudere qui ci sono altre cose rimaste aperte prima della scena finale del film esatto esattamente tipo la storia di Grindelwald e Silente comunque che che deve essere spiegata poi cioè non lo so anche i momenti di azione che ci sono stati secondo me messi in altri momenti del film sarebbero risultati più più potenti non lo so montati diversamente sarebbero risultati più potenti non lo so il fatto sta che è il risultato ai miei occhi estremamente estremamente piatto probabilmente il fatto che alcuni miei amici l'abbiano visto prima di me in lingua originale l'abbiano vissuto in maniera diversa ha alzato le mie aspettative perché la prima la prima reaction che ho avuto è stata la loro che l'hanno visto tutti insieme a Londra e parte della redazione di Portus ha fatto un viaggio un viaggio a Londra pochi giorni prima in occasione dell'uscita del film in Inghilterra nelle sale e l'hanno visto lì a Londra tutti insieme la loro reaction ha alzato molto le mie aspettative sicuramente il fatto che loro si siano emozionati mi ha fatto forse dare un po' per scontato che mi sarei emozionata anche io e ovviamente quando tu alzi le aspettative vedi una cosa in automatico se non va se non regge l'aspettativa ti delude e quindi probabilmente c'è anche quello c'è la cosa che l'abbiamo visto in italiano c'è che secondo me comunque resta un film piatto però il problema è che comunque va visto perché è pieno di informazioni fondamentali e il problema più grande è che queste informazioni fondamentali vengono prese e buttate lì prese e buttate lì prese e buttate lì non c'è una profondità una profondità che noi fan possiamo trovare perché e lo faremo parleremo di questo film per i prossimi mesi scriveremo articoli studieremo ogni cosa e va bene non è così perché siamo fan e quindi questa cosa ci piace farla e ci fa continuare a essere fan e continua a dar da mangiare alla nostra foga di voler sapere cose e conoscere cose ma dal punto di vista cinematografico questa roba non mi è piaciuta perché non posso essere io a dover cercare e trovare delle spiegazioni in quello che vedo nel film siccome questa saga nasce come saga cinematografica tu le cose me le devi spiegare nel film non le devo andare a cercare io ed è una cosa che ecco non mi ciao ciao magaglio 83 ben arrivata ben arrivato sul furgoncino di dungeon dice tv ti facciamo subito spazio tu allaccia la scitura perché giocando si impara stiamo chiacchierando di animali fantastici della saga di animali fantastici e poi dopo giochiamo anche buonasera cadabra ciao saitama ben arrivato ben arrivato scusate se sono controverso nel dire una cosa del genere ma la rivelazione all'inizio su green del valdessilente mi ha fatto cadere le braccia l'ha vista come l'ennesimo occhiolino inclusivo in realtà mister simo è una cosa che si sapeva già c'è una notizia cioè non è stata assolutamente una novità anzi era ora che uscisse quello è era ora che venisse detto a me invece quella è una roba che è piaciuta perché erano anni che si sapeva questa cosa ma non era mai stata detta chiaramente in un film o in un libro della saga il fatto che invece si sia detto chiaramente era ora era ora non è assolutamente un occhiolino perché è una cosa che secondo me è una cosa che si sapeva già da anni da anni che si sapeva questa cosa quindi era solo questione di di dirla assolutamente io penso che l'intera saga abbia una sceneggiatura raffazzonata supportata da una regia poco interessante per sì sono d'accordo Andrea per me la sceneggiatura ha un peso maggiore rispetto alla regia se c'è una buona sceneggiatura il film si ragge meglio sulle sue gambe il problema è che non va bene nessuna delle due cose cioè è proprio un problema di fondo che figata di maglietta grazie bella 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 sono molto fiera di questa maglietta mi è piaciuto come hanno contestualizzato Arianna con il nuovo colpo di scena il personaggio della professoressa l'ho amato Ilarina86 ciao Ilarina86 grazie di aver scritto ciao ah ok io non lo sapevo sorry non è mai stata dichiarata la sapevano la sapevano per bene i fan sì era una notizia che ha girato che ha girato veramente veramente tanto cioè il fatto che Silente fosse gay si sapeva se non sbaglio da poco dopo che è uscito il settimo libro film sì l'ha detto la Rowling anni e anni fa quindi cioè i fan anche quelli che hanno che hanno letto solo i libri o visto solo i film comunque lo sapevano quasi tutti non lo sapevo nemmeno io veramente veramente ragazzi io voglio fare un minuto di silenzio per Nagini scomparsa da questo film esatto non facciamo troppi spoiler perché Dancefloor non l'ha visto quindi rispettiamo il fatto che Dancefloor non l'abbia ancora visto e sia comunque qui con noi a chiacchierarne grazie neppure Saitama l'ha visto ecco quindi facciamo attenzione però sì non è uno spoiler si può dire tranquillamente il fatto che Nagini in questo film non ci sia e non si sa che fine abbia fatto sette libri e sette film e me lo dice ora Giula sorry ok era una cosa certa pensavo fosse realizzarsi di una fanfiction no 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 l'ha detto proprio la Rowling anni e anni fa si poteva percepire dalla lettura dei libri comunque cioè è un'idea che a molti era venuta era venuta in testa questa dell'orientamento di Silente e poi l'ha confermata effettivamente la Rowling ma tipo dopo l'uscita appunto credo appena appena finita l'uscita della saga letteraria quindi Pasquale non leggerò ad alta voce il tuo commento con questa con questa premessa è sette va bene anche se sarei meritevole di uno spoiler no Saitama ti abbiamo già perdonato anche perché Silvia non non ci rimane male afferma di essere lei indietro di vent'anni quindi non si preoccupa degli spoiler Nagini la cena esatto Nagini è il serpente di Voldemort che abbiamo scoperto nel secondo film di Animali Fantastici essere in realtà una donna che è un maledictus nello specifico ovvero una persona affetta da questa maledizione in cui di notte la fa trasformare in un certo tipo di animale nel caso di Nagini in serpente e però crescendo con la vita che va avanti assume sempre di più le sembianze dell'animale in cui si trasforma e meno e perde la capacità di tornare umana Silvia la più grande pottered dei nostri tempi esatto Nagini però trattata proprio a caso anche nel secondo film giusto accennata ed è una colonna della saga nel secondo film è pieno di scene tagliate che davano un po' più di contesto anche al personaggio di Nagini e questa è la cosa che poi mi fa arrabbiare della regia di Yates che è lo stesso regista degli ultimi film di Harry Potter e di tutte e tre i film di animali fantastici che girano un botto di cose che sarebbero una figata da guardare e poi tagliano perché se no il film diventa troppo lungo ok lo capisco che il film diventa troppo lungo ma che cavolo per non essere ancora volgari perché siamo solo alle nove e mezza di sera che cavolo però mi arrabbio peso però che Yates abbia avuto qualche guizzo in più rispetto al precedente vero vero secondo me riesce a gestire bene le ambientazioni e le scene con pochi personaggi peccato che il film abbia sia abbia un cast affollato però il dirla senza dirla mi sta creando problemi un secondo che ci penso perché ma il fatto che la saga si chiama animali fantastici ma la trama principale non è legata animali fantastici vogliamo parlarne ma in realtà gli animali fantastici cioè la saga nasce per riprendere il libro di Newt Scamander che è animali fantastici e dove trovarli e comunque hanno sempre una trama centrale legata ai film in questo soprattutto c'è un animale fantastico che è basilare per la trama del film anzi è solo quella la trama del film per scegliere qualcuno si accenna a una vecchia tradizione ma secondo te non è stata fatta passare come l'unico modo per scegliere no perché a me è arrivata come informazione che è stato un modo utilizzato per tanto tempo per tante volte di scegliere e che forse probabilmente non veniva più utilizzata da un po' di tempo e stavano riutilizzando quindi una vecchia tradizione più che altro perché è legata a Newt infatti esatto la volevano legare a Newt poi hanno deciso di girarla su Silente esatto già dal secondo però inizia ad essere eclissato da altri personaggi e storie sì però ormai gli hanno dato quel nome non puoi togliere quel nome dalla saga altrimenti perde di senso tutto anche se secondo me una cosa che mi è piaciuta un sacco richiami continuo Hogwarts Newt è quasi sempre in giallo nero non a caso assolutamente e i colori che indossa Newt sono secondo me tra i più belli cioè ma proprio il modo di vestire di Newt è tra i più belli di animali fantastici lo snaso è un figo punto migliore animale fantastico insieme allo Yeti che scompare che non ricordo come si chiama il Demi Guys il Demi Guys bellissimo ciao Mirko ciao Angie ciao sappi sei riuscita a distrarre Mirko dal processo di The Per con la tua diretta orgogliosissima anche perché così poi lo recuperiamo insieme ecco comunque lo snaso sì lo snaso è fighissimo e ruba la scena e ruba tutte le scene in cui c'è lui sono stupende e le mie tre scene preferite di questo film si può dire in due ci sono gli animali fantastici quindi ecco un altro punto a favore del perché si chiama animali fantastici la saga perché gli animali sono fantastici c'è poco da fare ti rubano proprio totalmente la scena totalmente Eddie Redman ha un carisma disarmante nella scena della prigione stavo piangendo da ridere è fantastico è fantastico ma ragazzi ma noi ci ci dimentichiamo che è un premio Oscar non dimentichiamo che è un premio Oscar non a caso ha interpretato uno dei personaggi probabilmente più difficili da interpretare non è facile interpretare Stephen Hawking lui l'ha fatto in un modo eccelso eccelso io lo amo premio Trevor secondo le nuove traduzioni io amo lo snaso ma Pickett sta lentamente rubando il mio cuore sì Eddie è l'amore infatti Angie siamo super d'accordo su questo è anche la coppia snaso Pickett che funziona estremamente estremamente bene non mi addentro nei segreti di Silente perché potrei dire molto di più ma rispetto Dancefloor e Saitama che non l'hanno ancora visto quindi non voglio assolutamente spoilerare entrare nel dettaglio degli spoiler ripeto cari Dancefloor cari Saitama il film va comunque visto perché ci sono un sacco di informazioni importanti da sapere se siete fan della saga poi si può parlare di tutti i difetti e noi ne parleremo un sacco a balanghe per tutti i prossimi per tutti i prossimi mesi o King the Danish Girl è un genio esatto esattamente snaso non ricorda un po' uno Psyduck e sarà forse anche per quello che mi piace tanto visto che Psyduck è il pokemon che rappresenta la mia vita e probabilmente anche per quello che mi piace tanto oddio non credo che i premi Oscar siano indicativi di alta qualità vedi Leonardo DiCaprio che si assolutamente d'accordo Tonino Pinguino certo questo poi si apre tutto un altro un altro discorso anche secondo me non è stata la sua interpretazione migliore ha poi vinto l'Oscar perché insomma erano anni che veniva nominato e che se lo se lo sarebbe meritato per tante altre interpretazioni quindi alla fine quando hanno potuto glielo hanno dato quello sì assolutamente però nel caso di Eddie Redmayne è estremamente meritato l'Oscar secondo me cioè proprio grandissimo attore noi non li rispettiamo alla fine del film Silente uccide Grindelwald e Newt si compra la focaccia sì esatto Death's Floor ma va così il film la focaccia a Genova proprio su questo sono d'accordo qualcuno ha visto Di Caprio il ritorno dal nulla giovanissimo è già meritevole per me cosa ha fatto Di Caprio in cui non è meritevole che figata sentire nomi a cui non sai associare facce ma come Leonardo Di Caprio posso capire se entro nello specifico del team del team che ha creato cioè del team che ha portato sul grande schermo animali fantastici focaccia is the way Revenant per me non era meritevole ok va bene va bene però Leonardo Di Caprio grandissimo attore grandissimo attore che altro dire che altro dire su questa saga quindi che altro vi posso dire senza fare spoiler di cattivo la trama è molto semplice cioè ho letto persone che allora Dancefloor prima accennava che la trama del secondo poteva risultare incasinata eccetera eccetera vero infatti hanno semplificato la trama del terzo film allora ho letto di gente che si è lamentata per la trama di questo film dicendo che è troppo complicata la trama di questo film è basata su un'unica cosa e fa esattamente così ha un inizio e una fine è un procedimento non esiste il complicato in questa trama ora se vi lamentate che la trama di questo film è complicata questo film il terzo nello specifico è complicata ripeto quello che ho consigliato oggi ripeto quello che ho consigliato oggi guardate guardate un live action della pimpa io credo che il patto di sangue lo abbiano lo abbiano buttato un po' in caciara guarda secondo me invece il patto di sangue è una delle cose che si capisce più facilmente in realtà cioè come si conclude la storia del patto di sangue secondo me è una cosa è una delle cose che funziona cioè ha senso e lo capisci subito dal film d'altronde anche in Harry Potter e la pietra filosofale lo specchio delle brame ci viene spiegato con una frase cioè perché Harry riesce a prendere la pietra è spiegato con una frase lascia andava bene e il patto di sangue no su quello sono cioè quello mi sta bene ci sono altre cose che non mi sono andate bene tante ma tante e ripeto anche un'altra cosa una premessa stra importante che ci tengo a fare io non sono una criticona io non sono una persona che di solito critica non sono nasco e cresco e corro ottimista sono super ottimista e cerco di vedere sempre il buono nelle cose per essere scontenta io di alcune cose mi dispiace cioè e vi giuro che mi dispiace non sai non non sapete quanto sei una criticona però giù no dici quello che non ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto io sono un po' criticone non posso dire di più senza senza fare spoiler e quindi quindi mi trattengo ancora mi trattengo ancora sono d'accordo la seconda volta l'ho visto in famiglia anche chi non si ricordava bene i due film precedenti hanno seguito tutto con molta tranquillità dice Pasquale mister Simo dice troppo semplice forse arrivati ai titoli di Coda mi sono chiesto tutto qui? esatto sciopero contro gli spoiler fai un segno così mettono muto per pochi secondi e no mi servirebbe tipo sei ore per dirvi tutto quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto facendo facendo spoiler quindi quello che vi posso dire è che da domani si comincerà a fare spoiler quindi continuate a seguirmi per sapere e da domani si cominceranno a fare a fare spoiler grossi spoiler quindi non badate a me lo vedrò tra un anno forse a me è piaciuto dice Ilarina questo per quello che dicevo prima è estremamente divisivo piace tantissimo o non piace nonostante questo io non riesco a dargli meno di 7 perché comunque è la saga più importante per me quindi non riesco a dargli meno di 7 nonostante nonostante questo perché va comunque visto le informazioni che ci sono vanno viste vanno scoperte vanno sentite e vanno viste al cinema anche perché poi certi scontri in un prequel in cui sai già che alcuni personaggi arrivano alla saga madre perdono un po' di adrenalina no quello dipende tutto da come vengono da come vengono gestiti in realtà se mi viene gestito bene anzi io ho l'hype di vederlo perché ne ho sentito tanto parlare e ho l'hype di vederlo quindi rischia di perdere di adrenalina se non viene portato sul grande schermo in un certo modo e di questo ho paurissima non lo nego però se invece l'hype cresce è trattato bene eccetera eccetera non lo fa diminuire me lo fa aumentare perché di quella cosa là ne ho sentito parlare e la voglio vedere non vedo l'ora di vederla quindi me la devi trattare in un certo modo se poi me la porti al cinema e non me la fai vedere come io mi aspettavo allora sì che me cavolo dance floor perché balli ho lavorato in discoteca a dieci anni ecco grazie dell'informazione nel frattempo era una domanda che mi facevo anch'io da un po' dice vero e semplicissimo la gente confonde il complicato con lo scritto male il fatto che non sia scritto bene come film non significa che racconti cose complicate io posso anche rendere complicato cappuccetto rosso se non lo so raccontare preciso perfetto esattamente così esatto cioè se io appunto se io non so raccontare cappuccetto rosso può diventare una storia noiosa lunga e brutta poi magari resta brutta lo stesso perché sto cappuccetto apro e chiudo parentesi cappuccetto rosso non è sta grande storia però insomma però se raccontata invece è come avere un bravo master o un master che non sa masterare al tavolo di gioco quando si gioca un gdr quando giochiamo a dnd il master deve riuscire a coinvolgerti così tanto da farti piacere l'avventura eccetera eccetera l'avventura poi può piacerti lo stesso ma se il master non sa trasportarti all'interno del gioco con quella capacità di racconto con quel coinvolgimento con i tanti particolari con il calore che ci mette lui se il master non ama nel profondo quella storia che ti sta raccontando tanto da fartela vivere come se tu fossi veramente all'interno di quell'avventura perché questa è la capacità del master tu quella partita a dnd non ti farà impazzire non amerai il gioco non lo amerai così tanto perché non ti sarai sentito coinvolto del tutto e questo è il ruolo del regista insieme allo sceneggiatore insieme al montatore del film sono i master di quel gioco di ruolo se io poi vado al cinema e non mi sento coinvolta in quel senso ma sento che sto guardando un qualcosa di cui non riesco a sentirmi parte e là c'è un problema significa che il master non sta facendo un buon lavoro e non lo sta facendo da anni eppure siccome è l'unico master che si trova per continuare a fare quella partita continuerà a master lui la partita e quindi io da giocatrice siccome non trovo un altro master o mi faccio andar bene quel master oppure niente e quindi mi faccio andar bene quel master la sensazione che ho rispetto ad Animali Fantastici 3 è che brava bellissimo paragone grazie ogni tanto ho questi sprazzi che poi ne vado fiera ora ne andrò fiera per tutta la settimana di questo di questo paragone ho perso pure il filo perché mi so mi so emozionata mo lo recupero intanto vi leggo e così mentalmente recupero recupero il filo che avevo plot twist per Jula ma capirà il nick deriva dalla mia canzone preferita murder on dance floor ah vedi ecco grazie Torino Pinguino comunque il migliore della saga rimane per me il primo Animali Fantastici se mi avessero portato meglio la storia di Grindelwald sarebbe stata invece quella la mia parte preferita l'ho adorata già dai libri e Luca invece dice io dico non hanno la minima idea di come riempire i film per farli arrivare allo scontro finale 5 film basati sul nulla sono troppi per quello escono film come questo che raccontano una storia che non fa avanzare di una virgola la storia principale e dato che siamo ancora lontani dallo scontro io mi aspetto un salto temporale qualora facessero il quarto incassare i complimenti e dove trovarli a posteriori avessero fatto tre film fatti bene sarebbe stato meglio guarda Luca ecco questa è una cosa che non ho recuperato il filo di prima ma ci arriverò però questa è una cosa che ci tengo a dire e posso dirla senza fare spoiler la sensazione che ho io invece è che qua di scritto ci sia una roba enorme di sottofondo una roba enorme la sensazione che ho io è che non è vero che questi film sono basati sul nulla ma sono basati su una storia talmente densa talmente importante che poi arriva in mano al trio fantastico di cui sopra e viene del tutto snaturata del tutto snaturata appiattita e prese appunto solo le informazioni principali per questo a me questo film è risultato un trailer di due ore e mezza in cui non c'è nulla di approfondito come se avessi visto tutte informazioni così che mi danno la sensazione che sotto ci sia una roba enorme da cui non si è attinto abbastanza bene per portare per mettere su questo film la mia sensazione dopo due volte che l'ho visto al cinema perché la prima non mi ha affatto bastata perché è stato un un'avventura particolare quindi ero comunque anche la seconda nel senso resterò per sempre legata a questo film per le esperienze che ci ho vissuto quando l'ho visto al cinema le prime due volte e di questo probabilmente questo anche me lo farà continuare ad amare per sempre perché è il primo che ho vissuto con delle persone che amano la saga quanto me per la prima volta nella mia vita quindi già solo per questo per me questo film merita il mio amore ma ripeto dal punto di vista cinematografico a me è arrivato uscita dal cinema per la seconda volta io ho detto io voglio leggere il libro di questa roba perché sono certa sono certa che la Rowling ci ha scritto tutto quello che c'è da sapere di questa roba tutto tutto sarebbe stato meglio farci una serie quindi piuttosto che film se la serie me la fa comunque Yates no allora detengo i film perché se se la serie me la fa comunque Yates mi fa tre stagioni da 25 episodi anzi ormai le stagioni da 25 episodi non le fa più nessuno però tre stagioni da otto episodi di nulla allora preferisco tre film lasciamo stare un trailer di due ore e mezza nessun modo migliore per dirlo anche per me di Singa Yates esatto anche io l'ho detto che volevo leggere il libro esatto esatto ecco cosa stavo dicendo prima nella fine del paragone con D&D grazie Laria perché me l'hai fatto venire in mente perché tu prima hai detto che a te è piaciuto la sensazione che ho rispetto a questo film e che è estremamente divisivo appunto è che piace tantissimo o a chi conosce virgola dopo virgola dopo virgola dopo virgola tutti i personaggi di cui si sta parlando e quindi è in grado di vedere quelle informazioni buttate lì e elaborarle immediatamente e apprezzarlo quindi ok oppure a chi è un fan della saga ma diciamo più più leggero rispetto a come sono io per dire io mi trovo nel mezzo io sono sono estremamente fan della saga di Harry Potter lo sapete ormai però non conosco i libri a memoria a memoria virgola dopo virgola ok c'è chi lo fa c'è chi è così e li conosco e quindi sono certa di questa cosa mentre ci sono si è fan a vari livelli no estrarre il film da un file zip dice esattamente esatto esatto mentre magari chi è leggermente meno fan di me cioè è ovvio che non sto dicendo niente di male sì ecco Ilarina vedi quindi più o meno più o meno siamo là la sensazione che ho però io è che a chi piace questo film ed è tanto fan come me è che ci piace perché ci riporta a casa e cioè la mia sensazione è anche la mia paura nel frattempo potete vedere una gattina selvatica e oggi invece del gattone la mia paura è appunto che possa piacere solo perché è una roba che accade inconsciamente quindi cioè ci piace perché ci riporta a casa è una mia paura è una mia sensazione non dico che sia così per tutti quindi Larina non sentirti ovviamente anzi dimmi dimmi se secondo te può essere può essere così perché ho un po' di paura rispetto a questo ce l'ho è appunto come quando giochi a D&D che non hai nessun altro che può masterarti la partita e ti fai andare bene quello e sei e sei comunque felice perché riesci a fare la tua partita non saprai mai come si giocherà una partita diversa a D&D perché non conosci un altro tipo di master e non sai dove andarlo a cercare e quindi giochi a D&D ti senti a casa sei felice e ti va bene così ho paura ho paura che sia questa un po' la sensazione per cui tante persone dicano mi è piaciuto io invece sono che magari è successo anche a me per per tanto tempo per tante cose e anche di Harry Potter sicuramente in questo momento non mi accontento più in questo momento io non mi voglio accontentare non voglio che 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 accontentarmi di un prodotto solo perché mi riporta a casa perché tu sai che mi riporta a casa allora allora non ti non so piangendo bevo perché c'è un po' di sto chiacchierando un botto stasera ma non sto piangendo piangerò forse dopo chi lo sa chi può dirlo ma non sto piangendo adesso sì hai ragione ah vedi vedi cioè mi fa piacere condividere questa questa sensazione e spero vivamente che non sia per la maggioranza così però sento sento che potrebbe essere così si chiama Eclipse la gattina non la faccio vedere perché vi sposto un po' il computer magari così perché sta proprio adormento tranquilla si è messa giù quindi non la disturbo non la prendo in braccio se no la infastidisco e quindi non la prendo si è messa giù tranquilla la lasciamo lì però ecco vero in quest'ottica a me per esempio nemmeno i film di Harry Potter sono piaciuti rispetto ai libri perdono tantissimo per me anche per me anche per me perdono perdono tantissimo eppure mi piacciono cioè nel senso e lì è proprio l'esempio di cui sopra perché parlando per esempio del principe mezzosangue che se io lo stacco dal libro a me non è dispiaciuto come film tuttora mi fa piacere guardarlo non mi stanca guardarlo mi diverte guardarlo eppure cioè quel film rispetto al libro è da denuncia siamo già d'accordo che è da denuncia ok perché perde tutto il senso del libro il film del principe mezzosangue totalmente non ci sono i ricordi di Voldemort Ginny è trasformato è trasformata in un personaggio totalmente inutile totalmente inutile quando invece è di una potenza enorme come come personaggio è allucinante eppure eppure staccando tutta questa roba qua io non riesco a dire che Harry Potter e il principe mezzosangue sia il mio film spreferito il mio spreferito resta il calice di fuoco cioè proprio in generale resta per me resta il calice di fuoco il principe mezzosangue fa male al cuore esatto il mio libro preferito è il principe mezzosangue il mio film sfavorito è il principe mezzosangue ovvio ora vi spiego meglio perché io odio tanto il calice di fuoco odio ed amo sì infatti il film di Harry Potter poi mi fanno venire voglia di rileggere i libri infatti grazie il principe mezzosangue è forse il migliore della saga il film è uomini e donne ambientato a Hogwarts Luca se c'è ancora Angie in live sarà fiera di questo di questo tuo di questo tuo dissing sicuramente anche a me anche per me Goblet è il più bello il libro è davvero arte no perché il calice di fuoco allora il mio libro preferito in assoluto è il prigioniero di Azkaban perché credo che sia stato un momento della mia vita particolarmente importante cioè proprio di cambiamento e ho vissuto quel cambiamento attraverso Harry, Ron e Hermione la saga di Harry Potter dal prigioniero di Azkaban in poi prende una piega diversa cioè si addentra ancora di più nella storia i personaggi cominciano a crescere di più eccetera eccetera quindi è rimasto nel mio cuore e resterà per sempre il mio preferito in assoluto la storia dei malandrini esatto il mio capitolo preferito in assoluto è il segreto di Hermione che è proprio il capitolo in cui si scopre che Hermione aveva il giratempo la giratempo e la utilizzava per seguire tutte le lezioni eccetera eccetera e e dei film anche il mio preferito è il prigioniero di Azkaban manca un botto di roba nel prigioniero di Azkaban mancano tantissime cose nel prigioniero di Azkaban eppure come film tiene ok manca la storia dei malandrini manca tutto il litigio con Hermione all'interno del film mancano tantissime cose che però dal punto di vista cinematografico avrebbero avuto una presa diversa sicuramente che avrebbero funzionato fino a un certo punto comunque il prigioniero di Azkaban visivamente secondo me è molto bello ti fa entrare a Hogwarts a Hogwarts come 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 si dovrebbe ok ti fa camminare per i corridoi ti fa guardare la collina del platano picchiatore l'uccellino che si va a posare sul platano picchiatore e fa una brutta fine tutte tutte queste queste cose che avrei voluto vedere vedere fin dall'inizio ok il quarto cioè quindi fino al terzo andava tutto bene il quarto è stato veramente impattante come non andasse bene rispetto al libro ricordo proprio avevo un fomento raro nel per quando andai al cinema a vedere il calice di fuoco ricordo perché il trailer in assoluto mio preferito è proprio quello del calice di fuoco di film perché fecero questo trailer in cui all'inizio c'era prima Harry poi Ron e poi Ermione che crescevano nei quattro film con delle immagini di tutti e quattro i film tra cui il calice di fuoco che doveva ancora uscire quel trailer io me lo ricordo mi aveva fomentato da morire avevo un hype assurdo per andare a vedere il calice di fuoco fu la prima volta che andai al cinema con l'uniforme per andare a vedere quel film ci rimasi malissimo non mi andava bene niente di quel film mancava troppa roba in confronto al libro la storia era era totalmente diversa delle battute orrende cioè dei dialoghi allucinanti delle cose veramente assurde cioè delle citazioni delle frasi che dice Ermione che non direbbe mai Ermione nella vita cioè Victor è più un tipo fisico l'unica citazione di Victor Crume in tutto in tutto il film che mi fa questa tenda è per campioni e amici cosa cioè cosa sto guardando cioè aiutatemi quindi è stato veramente impattante l'unica scena che si salva è il finale il ritorno di Voldemort grazie a Ralph Hines che è l'attore che ha interpretato Voldemort e lo so Luca lo so lo so perfettamente però è stato impattante per quello è stato impattante io avevo 15 anni quando lo sono andata a vedere non mi ponevo quel problema il libro erano 130 pagine il calice di fuoco ne sono 500 per me è stato impattante quel momento è rimasto il mio spreferito della saga perché mi ha cambiato mi ha snaturato per la prima volta ho visto snaturati personaggi ok e quindi è stato estremamente impattante mentre agli altri sapevo già cosa aspettarmi capito la prima volta che ho visto l'ordine della Fenice al cinema sono uscita dal cinema io ho capito tutto mancavano un botto di robe mi urtava che mancassero un botto di robe però la mia prima domanda uscita dal cinema è stata si ma chi non ha letto il libro cosa ha capito di questo film poi riguardandolo l'ordine della Fenice lo puoi capire regge 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 sicuramente più del del principe mezzosangue quello senza dubbio quello senza dubbio però la mia prima domanda uscita dal cinema era quello ma ormai dopo aver visto il calice di fuoco al cinema avevo già perso le mie aspettative rispetto ai libri da quel punto in poi io le ho separate le strade ok quindi l'impatto che altri film hanno cioè che il calice di fuoco ha avuto in negativo su di me altri film non li hanno avuti perché ormai le mie aspettative si erano abbassate ok si sono rialzate un po' con i doni della morte parte 1 perché Yates aveva deciso che quella parte la voleva fare bene e si erano estremamente alzate per i doni della morte parte 1 perché secondo me regge è fatto molto bene e poi con i doni della morte 2 è andato tutto sfarfallio proprio ciao hanno deciso ok chiudiamola chiudiamola così scoriandoliamo Voldemort è una bellissima idea facciamolo finire incoriandoli maledetti maledetti maledettissimi io volevo vedere l'incontro Harry e Voldemort che si guardano negli occhi girano in tondo e tutta la gente di Hogwarts intorno che fa le cose che odio che odio che odio quella non gliela perdonerò mai 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 nella vita vi recupero avete scritto un sacco a me da fan dispiace di non vedere nei film ciò che ho visto nei libri ma bisogna ammettere che i libri e i film sono media diversi e come tali vanno trattati assolutamente assolutamente sono d'accordo però si possono trattare in vari modi non c'è proprio bisogno di saltare e calpestare un libro perché sono due media diversi no? le imitazioni quanto sarebbe stato bello vedere sullo schermo pixel poltergeist che era previsto nelle prime sceneggiature il calice di fuoco per me è il film uscito meglio forse perché quando l'ho visto da piccolo mi ha dato tutto quello che chiedevo di Harry Potter ci sta che sia anche legame personale come appunto il mio sarebbero figo facessero una serie in tv in sette stagioni prima o poi la faranno allora con 10-12 ore di tempo al libro potranno spaccare lo sai Luca che l'ho sempre pensato è il mio sogno cioè ho sempre sognato che facessero una serie magari anche animata perché sarebbe se fosse una serie animata con un certo stile grafico sarebbe fighissimo una serie di sette stagioni una per anno secondo me era un'idea geniale ma vedremo anche secondo me il calice di quello che regge meglio non le posso sentire queste cose un terrore perché è orribile rispetto al libro perché ha anticipato lo snap esatto io però mi ricordo di un film estremamente fedele al libro e parlo di Catching Fire l'ho odiato a morte l'ho trovato freddo e banale Catching Fire è Hunger Games giusto degusti e bussa anche in discoteca ad esempio la bussola d'oro il film fa schifo la serie tv è piacevole il libro è irraggiungibile esatto cioè poi nessuno mette in dubbio che non potranno mai essere prodotti uguali ci sta perché come dicevate anche voi lo spettatore e il lettore possono essere spesso coincidono ma in realtà sono due pubblici diversi quindi ci sta che non coincidano le cose ma da qua a trattarle male ce ne passa di acqua sotto i ponti chiedo al film di non darmi tutta la sostanza del libro ma la dinamica e la sensazione che ho mentre lo leggo e io non ce l'ho avuta col calice di fuoco la sensazione che ho mentre leggevo il calice di fuoco si Hunger Games 2 ok ok ho la stessa idea di romanzo criminale ah vedi che non ho visto quindi non mi pronuncio perché non ho non ho visto però ecco la sostanza del libro la dinamica e la sensazione che ho mentre lo leggo io nel calice di fuoco non ho provato questa cosa per me è stato molto veloce con delle frasi messe a caso e poi appunto Ermione è uno dei miei personaggi preferiti e le frasi che ha nel calice di fuoco sono tutte allucinanti nell'ordine cosa c'è che non va ti si hanno data la bacchetta Ermione non direbbe mai una roba del genere Victor è più un tipo fisico Ermione non direbbe mai una roba del genere e che altro ah sì dopo che Harry e Ron si riappacificano lei si siede sul divano e fa uomini ecco 10 all'interpretazione grazie Pasquale ma a me più dal 5 in avanti mi ha dato quelle sensazioni io se rivedo ad oggi tuttora il quarto riesco a vedere con con felicità diciamo la parte finale perché la parte finale secondo me regge la parte del ritorno di Voldemort grazie ripeto a Ralph Hines e la parte in cui Harry torna con il corpo di Cedric nel labirinto regge esatto Tonino esattamente quelle due scene lì reggono quando poi il papà di Cedric urla mio figlio il mio ragazzo ok quella scena lì mi uccide tutte le volte però però c'è da dire che se guardi l'ambiente intorno è abbastanza finto cioè nel senso non non mi cioè capisco che è un set ecco il cimitero eh la scena del cimitero regge per l'interpretazione di Ralph Hines e anche quella di Daniel Radcliffe che secondo me in quella scena sono stati bravissimi però a livello di scenografia è forse una delle peggiori di tutte a livello di scenografia cioè non è non è credibile quanto avrei voluto e però ripeto quella scena io la guardo sempre volentieri fatico nel prima anche perché avevo ragazzi avevo 15 anni quando quando sono andata a vedere il carice di fuoco 14 quando l'ho letto pensate l'hype che potevo avere per una scena come il ballo del ceppo cioè provate a mettervi a mettervi nei miei panni una 14enne che legge la scena del ballo del ceppo e così la vuole vedere nel film smontata totalmente vestiti cambiati colori di roba cambiata niente che va come dovrebbe per farvi proprio un esempio legato all'età che avevo in quel momento baby julia esatto ok ok per me del carice di fuoco la parte finale sovrasta un po' tutto il resto forse senza vedere il finale cambierei opinione ok ci sta perché la parte finale è effettivamente anche la parte più importante del film se vogliamo quindi ci sta che sovrasta tutto il resto anche io avevo un 15 anni grande tonino pinguino viva l'anno 90 in la rina 86 anche io sono d'accordo ok grazie grazie ridiamo la giustizia al ballo del ceppo che cavolo le canzoni sono molto fighe il ballo del ceppo per esempio do the hippogriff è tuttora nella mia nella mia riproduzione casuale di spotify e ci resterà e ci resterà io sono d'accordo che tonino avesse 15 anni dice luca ormai inseparabili luca e tonino ripeto oltre quello nemmeno il crepa scusa dance floor avevo perso il tuo commento sì crepa che è un cardine della formazione di ermione nei libri nel film non esiste ma proprio minimamente accennato cioè gli elfi domestici tagliati via tagliati via dal quarto film totale quindi sì hanno reso il ballo del ceppo un ceppo di ballo esattamente esattamente quindi per fare il punto su ma neanche Dobby infatti neanche Dobby neanche Dobby tutto Winky esatto tutta la storia che non non facevano più non andavano più a ripulire la il dormitorio di Grifondoro perché ermione lasciava lasciava in giro i indumenti creati per loro cioè una storia bellissima bellissima quella del crepa buttata via così cioè posso capirla posso capire che magari cinematograficamente non avrebbe reso ma accennamela trova il modo di accennarmela cavolo non lo so cioè o troppo o niente funziona un po' un po' così o troppo o niente che vi devo dire vi devo dire Winky la odiavo alla fine del libro mi ha invece messo addosso una tenerezza assurda esatto ormai siamo una cosa sola ciglino is lifestyle il crepa nel film è crepato male esatto mister esattamente esattamente ma non dirò altro per il momento su animali fantastici 3 sappiate che se ne continuerà a parlare quindi continuate a a non perdervi niente nessuna notizia non solo qua ma anche su tutti gli altri social perché se ne parlerà parecchio e anche con spoiler quindi troveremo il modo di parlarne tonnino pinguino a modena faremo una partita epica tonnino pinguino anche ci sarà a modena fico bene ragazzi siete tanti siete tanti bene 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 io direi che possiamo arrivare quindi alla sfida alla mega sfida del giorno ho preparato per voi 30 domande ok 30 domande che cosa succede che ovviamente magari capiterà che qualcuno di voi abbia un po' di lag quindi come si risponderà a queste domande scrivendo in chat perché devo alla fine stabilire un vincitore e se facciamo i sondaggi non riesco a stabilire il vincitore quindi darò punti a chi scriverà in chat prenderanno punti no serviva quiz show arriverà impareremo a usare anche anche quello però buonasera da lagville ciao niten80 ciao non uccidetemi mai letto i libri di harry potter sono solo per adolescenti assolutamente no tania puoi leggerli quando vuoi assolutamente quando vuoi vai tranquilla i primi sono scritti un po' un po' semplici magari rispetto agli altri ciao carlito mania ben arrivato ben arrivata ti facciamo subito posto sul furgone di dungeon dice tu allaccia la cittura perché giocando si impara abbiamo appena finito di chiacchierare di animali fantastici 3 e di tutta la saga di harry potter cinematografica adesso stanno per arrivare 30 domande potteriane e vediamo se riuscite a superare il mio test comunque tania nello stile i primi due sono più bambineschi ovviamente però il materiale che c'è dentro è tanto non sono assolutamente solo per adolescenti quindi vai tranquilla 30 domande comunque impegnativo mi sento sotto pressione e pronto alla live fino alle 3 di notte manco alla patente tutte ste domande ragazzi poi se vediamo che il tempo stringe lo accorciamo comunque in ogni caso intanto fatemi cambiare il titolo alla live state state buoni state buoni che quasi imparano a fare cose durante durante la live quante ne sai su harry potter prova a battermi ha 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 ok perfetto da dei costanzi a costanzo è un attimo esatto allora quindi ci spostiamo sulla sulla schermata gioco la mia babbana preferita questa sera non c'è aleggia aleggia tania aleggia aleggia quindi sicuramente se ha sentito adesso ti saluterà quindi 30 domande vi prenderanno punti i primi 3 che riescono a scrivere in chat il primo 15 punti il secondo 10 punti il terzo 5 punti ok grazie per la compagnia comunque bella serata ma di che mister simo ma di che non andartene c'è da da partecipare al quiz qua eh ma se partecipa Silvia siamo fregati esatto esatto quindi siete pronti io vi leggerò la domanda vi darò il via solo quando vi darò il via potete cominciare a scrivere in chat non scrivete prima del mio via perché non vi do i punti ok chiaro mi raccomando sono stata abbastanza chiara anzi io mi unisco di foglio per scrivere i punteggi bevo un goccino di acqua e ci siamo chiaro chiaro perfetto tutto chiaro ottimo bene così vi voglio allora ci saranno domande più facili e domande meno facili ok se vi vedo in difficoltà vi aiuto state tranquilli ok un po' assertiva ma ok ok eccoci qua prima domanda prima domanda quale studente pietrificato viene portato in infermeria la notte in cui le ossa del braccio di Harry ricominciano a crescere via e questa è abbastanza facile non mi dite che non è facile mazza state lì già pronti tiè allora fermi fermi allora mi hanno fatto punto Ilarina 86 Vale Aiku e Fedes 93 Dancefloor no non è Neville Pachock è Colin Cannon esatto bravi 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 allora fatemi segnare qua Ilarina 15 punti per Ilarina Vale 10 punti e Fedes 5 punti ok ok quando hai detto via io vedevo già 5 scritte allora aspetterò un po' di più per dire via dalla prossima domanda ok Luca così da dar tempo a tutti quindi chi non ha per niente lag mi spiace aspetterà un po' di più per il via ok ok bisogna chiamare la telecom per puntare due ok sì ma dove dove sono io non c'è la fibra quindi bisogna chiamare la telecom per pingare due quindi Luca aspetterò un po' di più ok quale mangiamorte si smaschera per primo nella stanza delle profezie dopo che Harry ha udito la sua profezia e ora aspetterò un po' l'importante è partecipare ma sì mister Simo l'importante è partecipare via ho detto via per chi non l'avesse sentito eh questa Malfoy 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 Yaxley no era Malfoy la domanda sì la risposta era proprio Lucius Malfoy bravi vi vedo reattivi vi vedo reattivi stavolta allora Fedes ha indovinato di nuovo stavolta per prima quindi fa 15 punti ed è a 20 in questo momento Tonino Pinguino prende 10 punti i suoi primi 10 punti e Luca hai visto che sei riuscito 5 punti per Luca ok bravi comunque vi vedo vi vedo belli belli cariche quindi in questo momento abbiamo Fedes a 20 poi Larina a 15 e poi tutti gli altri ma Pingu troppo non ce la farò mai tutti dopo il via non funziona neanche se aspetti a dare il via come no provo a aspettare ancora un pochino di più purtroppo sul lag non posso farci non posso farci niente è cattivo Twitch da questo punto di vista non ci ci lagga anche il via arriva dopo eh lo so tu scusate cioè tu comincia a scrivere prima la domanda la leggi comincia a scrivere il commento prima che io dica via dopo che dico via devi solo cliccare eh no noi liguri siamo troppo penalizzati ricordati che io ne saprò sempre meno di te dice Silvia Tania nel frattempo no perché loro sentono il via prima di noi eh però vi ho dato un trucco adesso infatti a me la mia chat mi portava per prima alla prima domanda siamo ancora alla prima domanda bugiardi bugiardi non è vero oh allora pronti terza domanda eh terza domanda Tom Felton l'attore che ha interpretato Draco Malfoy fece anche un provino per interpretare un altro personaggio quale questa già è più difficile è già più difficile ma allora facciamo così io vi do un po' di tempo così voi vi preparate la risposta appena dico via non vale questo via voi la mandate non valeva questo via l'ho detto che non valeva ok via adesso e poi non mi dite che non ho aspettato dovete solo cliccare in via in via Harry Potter Harry Potter non era Neville non era Neville già siamo in ritardo fai pure le boss esatto Tania mi hai indovinato brava brava mi hai indovinato eppure per prima cioè dovresti essere fiera Tonino di nuovo secondo Tonino va avanti a 10 punti e la terza Fedes di nuovo Fedes sì ma vogliamo il bar qui ci sono false partenze ma tanto avevano dato la risposta sbagliata e non l'avevo detto e ecco qua oh intanto Tonino che operatore sei qui si passa a discutere lo scam questo gioco no Dancefloor io credo in te ce la puoi fare ce la puoi fare ok clicca prima che io dico via io sono ancora Colin Cannon non è vero provate a togliere solo e mettere solo l'audio magari vi va meglio magari vi va meglio pronti? domanda 4 arriva Ron Weasley così a caso Luca risponde allora vi avviso che la quarta è una domanda lunga attenzione durante le riprese del primo film un attore ebbe un incontro privato con l'autrice a proposito del suo personaggio e venne a scoprire qualcosa di strettamente riservato chi era l'attore attenzione attenzione pronti? via Peter Rickman Peter Rickman te la do buona guarda te la do buona te la do buona però avevi scritto prima del via poi hai riscritto dopo il via quindi va bene quindi te la do buona Luca eh attento che ti controllo Ele e Vale i primi tre dopo facciamo i conti sarà complicatissimo arrivare alla fine di questo gioco non so in cosa mi sono andata a infilare Ron del libro non conosco il nome Ron Weasley però no era effettivamente Alan Rickman che era l'unico a conoscere esattamente tutto il background del suo personaggio che è Severus Piton era proprio l'unico a conoscere tutta la storia del suo personaggio era importante che lui la conoscesse assolutamente sì assolutamente sì era importante perché lo ha interpretato in maniera magistrale in maniera assolutamente magistrale e magari se non avesse saputo tutto il background non sarebbe riuscito a interpretarlo così in quel modo quindi sì doveva assimilare il personaggio esatto esattamente esattamente è stato bravissimo Alan Rickman estremamente estremamente bravo è per questo che poi tutti si sono legati fortemente al suo personaggio quando è arrivato il finale e quando si è scoperto il finale smettetela cosa state facendo vi elimino allora butto le soste a caso non vi faccio giocare più eh allora andiamo avanti domanda numero 5 questa invece è molto corta attenzione chi è Gregorovic e chi lo uccide pronti via ecco boh dice Tania attaccante della fiorettina esatto fabbricante di bacchette ucciso da Grindelwald Goldemort non lo uccide Grindelwald Luca lo uccide Voldemort fabbricante di bacchette Voldemort infatti infatti esatto quindi hanno indovinato per primi Tonino Fedes e Ilarina è vero bacchettarolo a forza di parlare di Grindelwald esatto esatto bacchettarolo te la do buona Tonino sì sì qui non siamo non siamo cattivi come come nei giochi televisivi e la diamo buona Tonino Fedes e Ilarina bravi siete stati i primi tre esatto hai vinto tutto quello che si può vincere nel globo terracco nel frattempo dice Dancefloor esce il gioco da Voldemort eh sì Luca però mi spiace la velocità mi fa sbagliare perché era una domanda tra bocchetto perché abbiamo parlato tanto 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 di Grindelwald e Gregorovic comincia e quindi ci siamo sbagliati ci siamo sbagliati tutti chiedo l'aiuto da casa Silvia esatto ma questa domanda ve l'ho fatta proprio perché Silvia l'altra sera mi ha chiesto ma soltanto Ollivander costruisce le bacchette e io le ho detto in Inghilterra soltanto Ollivander costruisce le bacchette ma in realtà c'è un altro fabbricante di bacchette che è almeno a noi conosciuto che è Gregorovic ucciso da Voldemort quando era alla ricerca della bacchetta di Sambuco e qui si dice bacchettarolo ma per me si può dire il bacchettarolo controcorrente eh c'era ma poi è stato fatto fuori coincidenze esatto sogno un crossover tra Harry Potter e The Zombies col signor Fletcher che fa magie è fortunato che sia morto altrimenti ci pensavo io apprezziamo il tuo interessamento dice Mr. Simo a Silvia esatto qua si chiude la prima parte del quiz che era dedicata casa di serpeverde mangia morte e arti oscure quindi stiamo per 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 addentrarci nella seconda parte del quiz in cui hanno sono protagonisti gli oggetti e gli artefatti ok siete pronti alle prossime cinque domande pronti questa potrebbe essere difficile andiamo vai quanto costavano poi le bacchette eh almeno un paio di galeoni almeno anzi forse una decina di galeoni qual è l'anima della bacchetta di bellatrix le strange questa è più difficile pronti via bevo io nel frattempo attenzione attenzione qualcuno ha indovinato eccoci qua aspettavo che ha indovinato se no suggerivo corda di cuore di drago esattamente brava vale brava fedes e bravo luca corda di cuore di drago esatto vabbè dai esco col cane torno tanto ho le stesse possibilità di vincere che alla selernitana di non retrocedere va bene dance floor ti aspettiamo però torna torna che piangiamo tutti insieme alla fine te lo dico torna allora dicevamo fedes luca e valentina è stata la prima vale fedes e luca bravi ragazzi questa questa era difficile ma ha vinto la selernitana nel frattempo ha morte tutti gli unicorni no è una tragedia se muoiono gli unicorni tania lasciamo stare il sangue di unicorno fa brutti scherzi ma ti faccio la formazione io per la selernitana gregorovic unica punta lo prendiamo dalla viola dice silvia esatto quindi attenzione prossima domanda prossima domanda questa dove potreste saperla è abbastanza semplice diciamo come si intitola come si intitola la versione serale del giornale del mondo magico pronti via è qua vi voglio paese sera mi sfugge attenzione mister simo attenzione brava fedes brava ilarina e bravo mister simo che ha colto e ha scritto subito chiara sì esatto il profeta della sera il profeta della sera quindi fedes ilarina e mister simo che ha colto la palla al balzo il suggerimento e ha scritto la risposta bravo ottimo ottima prova mister simo il resto dell'ozellino potrebbe essere un altro giornale chi lo sa nostradamus di notte sarebbe carino sì ma io ero ancora sulla salernitana e tu ti sei fatto distrarre dalle formazioni altrui che ci puoi fare grazie dell'assist esatto quindi prossima domanda pronti perché ermione aveva in mano uno specchio la sera in cui è stata pietrificata questa è facile 3 2 1 via facilissima questa è proprio ve l'ho regalata per te sicuro di Tania avete scritto in botto aspetta fammi leggere perché aveva letto Luca così a caso perché aveva capito del basilisco cercava il basilisco per vedere il riflesso perché sapeva che era un basilisco per non morire esatto per guardare dietro gli angoli l'ha letto sul libro chiara precisissima per guardare negli angoli nel caso in cui ci fosse il basilisco per non guardare direttamente il basilisco cercava il basilisco allora pervi tutti qua devo capire allora Luca perché aveva letto non mi è completa come risposta non te la posso dare buona questa perché ci sono altri che hanno scritto più di te nello stesso tempo quindi non te la posso dare buona vale perché aveva capito del basilisco sì l'accetto quindi è la prima che piglio per vedere il riflesso cercava il basilisco non è che proprio lo cercava cercava di difendersi dal basilisco quindi detta così non la darei non la darei proprio esatta per vedere il riflesso pure sono un po' incomplete perché sapeva che era un basilisco ilarina ci sta l'accetto quindi prendo come seconda e terzo per non morire giusta ma non specifica e quella di Chiara è troppo precisa quindi prendo quella di Chiara come terza non mi menate per non guardare direttamente il basilisco mister Simo era giusta ma è troppo tardi qua siamo sulla tecnicalità esatto perché questa era facile quindi vado sulla tecnicalità no e ho capito ma loro sono avvantaggiati se scrivi tutto arrivo dopo sì ma Chiara dopo il mio del basilisco sì ho capito ma Chiara mi ha scritto un poema ci hanno esclusi con blotto esatto dai su vi rifarete io credo in voi lo faccio per come si dice per spronarvi perché so che le cose le sapete ma vale velocità o previsione allora tutte e due la prossima è corta la prossima è corta è corta la domanda sarà corta la risposta questa è la vera domanda Chiara ha anche una linea che è una comet 260 dice quindi ecco qui zero punti è una vergogna belle domande comunque grazie misterzio non è la sera pokemon difficili il giusto esatto pronti allora la prossima domanda ripeto è corta non so se è corta la risposta che cos'è un bezoar e dove si trova bezoar e dove trovarli pronti via questa è bella di domanda sicuramente Silvia questa non la può indovinare neanche cioè proprio mai forse è giusto perché ha letto il libro ieri oh bravi mi avete scritto in tanti anche qua pietra pancia capre dice tonino il sintetico ma ha detto tre cose estremamente giuste pietra pancia capre ok pietra intestino pecora è capra in realtà pietra antidoto orzo che ruta scusate sto morendo un antidoto dentro la pancia di una capra Luca bravo una pietra che si trova nello stomaco delle pecore no delle capre attenzione simile una pietra la si trova nello stomaco delle capre ed è molto utile come antidoto per diversi veleni tiè Pascole mi ha scritto proprio tutta la il coso della treccani del bezoar grande una pietra che sta nello stomaco delle capre pietra antidoto che si trova nella pancia delle capre muoio Silvia risponde a Tania una pietra che si trova nella pancia della capra serve come antidoto veleni ora vediamo se vale la precisione che siano così facili queste domande buonasera Armione dice Chiara a Pasquale infatti infatti le sanno pure i bambini dice Luca a Tania allora vediamo i primi tre che hanno risposto allora pietra pancia capre Tonino era quasi giusto però siccome c'è chi ha aggiunto anche la cosa dell'antidoto perché alla fine ho detto ho chiesto cos'è un Bezoer e dove si trova ho detto non cosa fa non ho chiesto cosa fa però c'è pietra pancia capo e quindi rispetto alla domanda che ho fatto io la risposta è giusta perché non ho non ho chiesto anche cioè ho chiesto che cos'è ma non ho chiesto nello specifico cosa fa cos'è poteva essere la risposta poteva essere una pietra che si trova nella pancia delle capre quindi la risposta di Tonino l'accetto anche se c'è chi è stato molto più preciso andiamo a vedere pietra antidoto però manca dove sta non è nella pecora non è un orso che rutta Luca un antidoto dentro la pancia di una capra sì ma non mi hai detto che è una pietra antidoto attenzione una pietra che si trova nello sto cioè non mi hai detto che cos'è mi hai detto che è un antidoto in realtà è una pietra che poi funge da antidoto dentro la pancia di una capra però giudice giudice ecco quindi merita Tonino 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 gli ho dato i punti una pietra che si trova nello stomaco delle pecore no perché si trova nelle capre Pasquale secondo me Pasquale merita ragazzi simile a una pietra la si trova nello stomaco delle capre ed è molto utile come antidoto per diversi veleni io dico che Pasquale si merita questi dieci punti oh dovreste essere tutti d'accordo io l'ho aggiunto l'ho aggiunto io mister Simo l'ho chiesto io che cos'è un besoar e dove si trova e ho aggiunto e dove si trova attenzione eh quindi fate attenzione una pietra che sta nello stomaco delle capre vale ok ecco i tre dove eravamo arrivati fallicissima ora se non prendo 15 punti esco ok devo andare buonasera Rita finisco in prima pagina anche stavolta sono stato preciso e sintetico ti ho dato i punti Tonino eh sono stato preciso divido i miei punti con Luca Sciglione la domanda è che cos'è un besoar non dove si trova guardare la slide ho già risposto mister Simo pubblicità ditemi se è finita così possiamo continuare il quiz ciao Fabio come promesso quando posso passo grazie cuore grazie grazie Fabio spero di vederti anche domani in realtà eh chiedo l'intervento di Silvia tre punti a tasso rosso alla faccia della democrazia c'è zero punti di fila in due domande dove ne meritavo minimo 40 abbiamo diviso i miei punti con Luca Sciglione Luca li ha presi Tonino li ha presi Tonino voi state giocando insieme nella mia testa ok no non è vero però li ho dati a Tonino ok è stato sintetico e preciso il giusto ma se non l'hai scritto c'è un motivo non l'ho scritto perché in quel momento ho proprio pensato aggiungerò a voce questa cosa eh mister Simo allora sono competitivo sto scherzando ok hai figli giustizia per Luca Sciglione lanciano lanciano hashtag in chat justice per Luca Sciglione 700 punti a Griffon d'oro è arrivata Silvia nel frattempo perfetto se ti avanza qualcuno passamelo chissà perché domani ovviamente ci sono esatto Fabio esattamente solo quello agli AIDS perché ecco merita ne abbiamo parlato ampiamente nella prima ora nel frattempo Eclipse continua a girarsi siete pronti per la prossima domanda questa è un po' più lunga è l'ultima del settore oggetti e artefatti eh ti ho fatto fumare due sigarette per lo stress scusa Tonino facciamo pausa acqua sono tesissimo proprietà transitiva i punti passano a chi è Griffon d'oro ok ragazzi mi sto sentendo male grazie mi sto divertendo d'amore facciamolo tutte le settimane allora pronti domanda prossima domanda che cosa usano i gemelli Weasley 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 per origliare i discorsi dell'ordine della fenice a Green Mall Place numero 12 pronti via che è sta storia che non rispettate più il mio via allora vi ho detto che quelli che arrivavano che arrivavano prima del mio via non valevano quindi la prima risposta dopo il via sono arrivata da da chiara credo Luca hai risposto prima del mio via non scrivete prima infatti vale non scrivete non scrivete prima del via non vale in chat prima del via chiara fabio e fedes oh continuiamo con la vergogna ho capito Luca eh fabio e fedes oh ma prima del tuo via è dopo il tuo via in tempo reale giustizia per Luca Giglione no Luca cioè mi farò perdonare in qualche modo mi spiace se aspetto il via arrivo 20 minuti dopo devo anticipare a caso ok preparati sul credo in te ce la puoi fare a beccare il momento giusto ok quando io sono ancora a Gregorovic sono a Genova capitolo va bene va bene pronto allora qua stiamo passando a il settore di domande che secondo me è il più facile di tutti infatti quelle per cui ho avuto più difficoltà a a creare le domande ovvero animali creature magiche ed esseri magici ok prima domanda qual è il nome del vecchio gufo degli Weasley 3 2 1 via Errol vedi Luca ce l'hai fatta adesso bravo sei riuscito oh ah mio pane quotidiano dice Tania Errol 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 Luca bravo 15 punti vanno a te stavolta ce l'hai fatta a rispondere per primo Chiara e Fedes quello che si schianta esatto mister Zemo proprio lui si chiama Errol a me il via è arrivato dopo la risposta di Pasquale dance floor prova non so da che dispositivo guardi perché anch'io quando guardo Twitch da dispositivo mobile da telefono o da tablet da tablet ho un lag allucinante ma proprio sarà almeno un minuto cioè proprio tanto mentre invece da computer e cellulare meno non so perché mi ricorda Tombolo se non sapete chi è Tombolo leggete il gufo che aveva paura del buio da telefono ah vedi dovresti provare da un altro dispositivo e vedere che succede oppure ricaricare ogni volta ogni tanto la pagina per provare a rimetterlo in pari io ho mutato la tele per avere meno lag e sto da telefono ecco mi riferivo al fatto che le domande dovrebbero essere facili ah scusa chiedo il bar neanche ho visto la domanda che già leggevo le risposte mannaggia allora troveremo un altro modo ragazzi però siete d'accordo con me che se facevo il sondaggio non potevo non potevo riuscire a stabilire un vincitore no quindi mi sono attrezzata così poi studieremo un altro modo ogni tanto riproporremo riproporremo il quiz ok posso chiamarti al telefono per avere meno ritardo comunque Errol fighissimo che non vede il vetro Gesui Errol hai provato a ricaricare allora dici come va Dancefloor dici io ho ridotto la qualità a 160p per evitare ritardo la competizione che si fa sentire in questa live procediamo procediamo la prossima su Discord di Dungeon Dice ogni tanto ricarico ok procediamo domanda numero dodici come ottiene Hagrid l'uovo da cui nascerà Norberto 3 2 1 via in un pub da uno sconosciuto da un viandante al bar lo vince in un pub da uno sconosciuto scambiato alla testa di porco da un viaggiatore lo ruba no Tania che ci prova grande Tania ti stimo tantissimo da uno sconosciuto al pub a Dogsmaid da Voldemort alla taverna pub da sconosciuto scommessa lo vince a carte alla festa alla testa di porco bravi 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 Dante al bar non è proprio precisa perché è pub più che bar lo vince sì però è incompleta visto che c'è chi l'ha scritta completa in un pub da uno sconosciuto è giusta vale alla testa di porco da un viaggiatore come dice Luca è giusta scambiato non mi basta stavolta Tonino Pinguino pretendo di più da te anche con la tua sintesi da uno sconosciuto al pub a Dogsmaid dice Pasquale per terzo da Voldemort alla taverna in realtà da Raptor pub da sconosciuto bravo Fabio scommessa no lo vince a carte alla testa di porco sì era giusto Fedes Alberto entra in 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 chat non si parla del ragno l'uovo da cui nascerà Norberto Norberto è il ragno Alberto ti meno dammi almeno il tempo di scrivere le risposte se sono lunghe ma mi vanno bene anche le tue sintetiche ma scambiato non mi completa prima hai fatto una sintesi di tre parole che mi raccontava tutta la storia ora pretendo quello da te primo mangiamorte senza maschera è Lucius Malfoy mister zivo non so la domanda è scritta è scritta lì la domanda come non la sai ma come il drago parli di Norberto e compare Alberto perché fa rima e Alberto giustizia per Luca Ciglione se vuoi sostenere un bip maltrattato noi a Lugville aspettiamo lo spettacolo di Giula che fa i conti alla fine a Lugville è tutto più bello comunque cosa sta succedendo a Lugville donna 555 per sostenere giustizia per Luca ci chiamo ora ah hai solo audio allora sei perdonato allora sei perdonato allora tra poco potrai sentire la prossima domanda neanche Vanna Marchi entra in topic su Twitter pronti andiamo avanti però se ti mandiamo in iperventilazione per ridere vinciamo qualcosa la mia stima più profonda anche perché ridere è la cosa che amo di più al mondo amo ridere sono una persona gioiosa se devo scegliere un personaggio tra i cartoni della Pixar sceglierei gioia quindi se mi fate ridere vincete proprio tutto il mio affetto spassionato chi è Sonorberto chiede Tania è il drago d'orso orgoso di Norvegia Tania che nel primo è Harry Potter e la pietra filosofale trovo e mille galeoni esatto 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 pronti andiamo avanti prossima domanda qual è questa su questa domanda anche i più grandi possono cadere qual è il nome del cane di Zia Marge 3 2 1 via grazie Fabio Pasquale che cita Fabio Debo esatto squarta è squarta bravissimi 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 allora Fabio segnare Fabio ha indovinato per primo e poi Pasquale non vale come risposta Fabio Debo mi ha fatto molto ridere Chiara grande e Fedes bravissimi Tania comunque sto apprezzando tantissimo che stai continuando a giocare nonostante tu non sai niente non sai quanto sto apprezzando questa cosa veramente grazie veramente grazie cioè non puoi capire grazie infinite Fabio prima del via chiedo la review no l'ha detto sul via sul via è giusto è giusto ma come uffa no no Maria io esco tua sorella ora segue da Giotei TV benvenuta tua sorella grazie ti facciamo subito spazio sul furgone e tu allaccia la cintura perché giocando si impara stiamo giocando a un quiz potteriano se vuoi metterti alla prova con noi sei la benvenuta o benvenuto benvenuta ciao ciao sorellona ciao a perdere si impara a perdere qua come laia l'arbitro rifiuta di andare al monitor ok ok va bene Fabio Devo sarebbe più che corretto come risposta comunque 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 fate la clip così poi gliela mandiamo giocando si impara a cambiare operatore esatto andiamo avanti siamo quasi a metà quasi siamo quasi a metà allora sono un po' Mike buongiorno quindi domanda numero 14 qual è il patronus di luna Lovegood 3 2 1 via l'epre 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 bravissimi bravissimi Ilarina volevi scrivere l'epre ce l'hai fatta comunque per seconda sbagliando il primo messaggio ce l'hai fatta comunque per seconda e quindi comunque hai preso dei punti Fabio Ilarina e Mr. Simo bravi Ilarina e Mr. Simo bravi l'epre ciao 2 clear 6 benvenuto grazie di aver risposto avevi anche indovinato non tra i primi tre ma avevi indovinato complimenti unicorno no grazie Tania cavallo no tonino pinguino l'abbiamo detto l'altro giorno il cavallo è il patronus di Silvia abbiamo scoperto ma di Ginny nella storia lepre 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 bravissimi che fatica cavolo ho sbagliato che ansia che ansia cioè Ilaria ha scritto due messaggi qui eravamo ancora a dare il benvenuto a tua sorella Luca mi sto sentendo male ora accendo un'altra sigaretta una febbre da cavallo Ilarina al prossimo quiz vengo a casa tua che vedo che hai una gran connessione anche sul balcone basta che arriva il wifi oddio sto morendo pezzato come me in questo momento esatto giustizia per Luca Ciglione a me hanno pioppato il segugio che non trova neanche la lepre di luna io ho un rondone quindi lasciamo stare ultima domanda per quanto riguarda il settore animali e fantastici e dove trovarli pronti questo è facile ve lo dico io ho il piccolo gufo è supportato dagli hacker io un terranova sono pronto ok pronti che drago affronta Harry durante la prima prova del torneo tre maghi un due tre via questa è facilissima ragazzi cioè me ne vado se non sapete questa me ne vado spinato spinato ungaro spinato ungaro spinato ungaro spinato ciao Fabio mi ha detto che è uscita la domanda da me più temuta esatto ciao Fabio sì però l'hanno indovinata tutti come mai hanno indovinato anzi qualcuno ha dato come risposta a Fabio Debo in realtà sei stato proprio nominato mannaggia quel cane esatto esatto allora avete risposto un sacco spinato spinato ungaro spinato ma siccome c'è ungaro spinato prendo i primi tre che hanno risposto completi con ungaro spinato quindi Luca Vale e Pasquale Luca Vale e Pasquale esatto bravi bungaro spinato Talia per un pelo squarta sei tu giustizia pure per Tonino sì come Hannibal anche lui è squarta esatto giustizia per Tonino se vuoi che scriva completo aspetta a dare il via Tonino gli altri ci riescono eh tu devi 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 stare preparato io confido in te sei il più grande eroe di esci da questa live io avevo scritto ungaro e mi ha scritto infatti noi Larina Justice for Larina ragazzi anche perché alla connessione buona ci si mette il correttore a complicargli la vita allora stiamo per passare a un altro settore streghe maghi fantasmi e babbani ok domande di storia no eh questa è tutta storia magica è tutta storia magica a Modena ci vendicheremo va bene vi svelo un segreto vi svelo un segreto io una volta ho perso al Trivial di Harry Potter Bischi una volta mi ha battuto al Trivial di Harry Potter pubblicità cavolo sul segreto ditemi quando è finita che vi ridico il segreto io ancora no pubblicità vai ora ok ho perso una volta Bischi mi ha battuto al Trivial di Harry Potter già già ma non ci credo mai nella vita è successo per una domanda è successo a Modena ci vendicheremo ma non ci i segreti di Jula esatto esattamente c'è il lag anche sulle pubblicità chi può dirlo mister C c'è il lag ovunque ti ha giocato un brutto tiro Bischi Weasley esatto Pasquale esattamente esattamente andiamo ma perché Bischi Bischotto è il diminutivo del suo cognome è simpatico sì è molto dolce ricorda proprio Bischotti quindi quindi si chiama da solo Bischi infatti Bischotto come questo quiz Luca lo sta prendendo benissimo ma andiamo avanti prima domanda della prossima categoria attenti qua vi voglio scrivere bene vi avviso qual è il nome completo di Silente pronti un due tre via nel frattempo è arrivato Bischi in chat che si è sentito nominato Albus Silente no non è completo cioè quello è il nome ma non è completo Albus Percival Brian Wolfrich Silente Albus Percival Wolfrich Brian Silente Albus Percival Wolfrich Brian Silente bravi ragazzi bravi vedo eh Tonino te ne manca uno eh ti manca un nome ti manca un nome allora Vale quasi capisce che c'è una M fuggita per errore quindi Albus Percival Brian Wolfrich Silente è giusto è giusto anche se hai invertito l'ordine te la do buona quindi Vale Chiara e Fedes bravi voglio così avete risposto in tanti bravi Gianni Pervinco Castolfo Silente grazie Fabio che ormai ha perso le speranze è contrario ai quiz e quindi dà il meglio di sé come solo Fabio Debo sa fare ed è per questo che lo gli vogliamo tantissimo bene Ciao micinati di ruolo ciao ben arrivati grazie grazie come è andata la vostra live spero bene qua stiamo facendo un quizone potteriano e c'è una competizione mai vista prima a dir la verità è una dammela tania tania ti do tre punti a tasso rosso albus festival bull freak brian silente bravo era giusto albus 50 punti a grifondoro silente anche giusto 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 bravi cacchio per la fretta grazie prego prego vale è no è no si è arrabbiato Luca è prima brian dovevano mettere tutto in inglese o tutto in italiano albus percival wolf brian silente è ultimo brian se non sbaglio non ha un nome il mio codice fiscale è più corto eh sì sì è un nome molto lungo citto non ha senso comunque rifresciare la pagina avere la qualità 160p se arrivo tardi comunque sono stato boicottato all'ultimo quiz prima brian e poi wolf mi sembra che wolf che brian sia l'ultimo alberto percivale goffredo briano silente siamo riusciti ad uscire dal vault grande iori grande facciamo che chi risponde per ultimo vince è facile così è facile così allora andiamo andiamo avanti ci sto aggiungo anche chi sbaglia la risposta mi sto divertendo e non sto facendo punti let's go è esatto è la mia sensazione di solito quando gioco a dixit ed è il mio gioco preferito mister simo quindi i feel you sono l'unico che ha risposto giusto andiamo avanti anche questa è facile ve lo dico come si chiama l'autobiografia di gilderoy di gilderoy allok un due tre via giustizia per per i trafutiori magicamente io bravo luca magicamente me magicamente me magicamente io chi brazo è non la so magicamente io magicamente io non è magicamente me in realtà è magicamente io e mi sa che è nel film che è magicamente me se non vado errato se non vado errato quelle che hai definito facili sono le più difficili ma come ma come I'm sorry allora chi ha risposto tanto luca sicuro luca two clear six e pierro soul non stai collaborandoti licenzio dice tania silvia forza luca ciglione mi ha confuso l'inglese magical me eh lo so lo so chiara lo fa lo fa lo fa dicevo tania dicevo non so nulla dice silvia risettita lo faccio per i tifosi andiamo avanti andiamo avanti pronti quale membro quale membro dell'ordine della fenice scorta ron alla tana nel capitolo i sette potter 3 2 1 via facciamo quiz nostro bravi è tonks non è malocchio ma tonks bravissima quindi fedes fedes vale e ilarina ilarina allora ma sarebbe giusto Harry Potter perché sono trasformati ma arrivo sempre quarto un punto per pietà va bene tonnino prendi un punto per pietà punti al quarto punti al quarto bella la chiamata del nonno alle 23 11 chiedo di ripetere la mace no pasquale poi le chiamate a quest'ora a quest'ora tarda ti fanno prendere gli infarti terrificanti mi sento come Leonard forza sport esatto esatto dai 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 mancano due domande a questo alla fine di questa categoria pronti pronti il nonno voleva forse rispondere esatto di chi Batilda Bat ha una foto in casa quando Harry le fa visita 3 2 1 via sono fortunata sono facili dice Tania Grindelwald bravi esatto chi ha detto lui ha solo detto giustizia per Tonino e ha chiuso il nonno Fedes Grindelwald Pierro Grindelwald si è palese che gelmetti te l'ha corretto perché gelmetti per cos'è Grindelwald esilente Grindelwald mia nonna era Grindelwald giusto giusto Fedes Pierro e Chiara dice Grindelwald esilente bastava soltanto Grindelwald bastava soltanto Grindelwald gli farò avere la mia maglia autografata chi è sta Batilda Batilda batte ecco chi no Maria io esco ancora quarto per la miseria dice Tonino Pinguino disperandosi no Maria io esco quindi cheat esatto ma se esci c'è meno lag chiedo per un amico bisognoso dei punti allora ultima domanda non mi ricordo proprio chi sia Batilda è la finta donna che era in realtà Anna Ginny quando la vediamo noi sì in realtà è la storica della magia che ha scritto proprio storia della magia quindi esatto credo che mi ballino se dico parolacce ma la domanda finale del doppio dei punti non ricordo in questo momento la domanda finale no non dà il doppio dei punti se volete posso scegliere una domanda dopo sceglierò una domanda che darà il doppio dei punti storica della magia Batilda abito tuttavia Batilda bagno esatto esatto ultima domanda per quanto riguarda streghe, maghi, fantasmi e babbani qual è il legame tra la dama grigia e il barone sanguinario 3 2 1 via dama grigia fantasma di corvo nero barone sanguinario fantasma di serpe verde perché sono legati attenzione 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 c'è della precisione in chat arriva a ogni tab a sprazzi arriva a sprazzi la trettunesima domanda darà un milione di punti a grifondoro esatto lui era innamorato di lei il barone sanguinario era innamorato di lei lui di lei ma apprezzo alla sintesi esatto brava fedes grazie per la precisione esattamente esatto esatto quindi non erano fidanzati no non erano amanti non erano sposati però hai visto Tania ci sei andata vicinissima stavolta perché c'è risposta molto simile a quella degli altri come dice Pierro lui era innamorato di lei giusto poi Ilarina dice barone sanguinario era innamorato di lei e Tonino Pinguino che lui di lei ma apprezza la sintesi Tonino poi fedes è stata precisissima in realtà erano fidanzati come me all'elementare esatto sanguinario perché frenzonato chiedo una verifica ok ciao non te va bene niente ora si come non mi va bene niente non mi va bene niente Tonino sei arrivato terzo eh stai calmo oh stai tranquillo stai tranquillo ora passiamo a un'altra a un'altra categoria Hogwarts altri luoghi e trasporti ok attenzione fedes ha già vinto brava la dama grigia nel film terrificante vuoi dire io so cosa ha fatto io so lui chi è quella punti per Tania esatto allora attenzione questa domanda la risposta a questa domanda è molto corta ma no non è vero niente sceglierò un'altra domanda ancora perché è troppo complicata per prendere il doppio dei punti quindi la risposta a questa domanda è molto corta attenzione inquietante come te che sai ogni battuta esatto giustizia per i ciclini solo a me non mi pensi oddio inquietante esatto eh sì quel pezzo fa inquietudine pronti quanti passaggi segreti ci sono nel castello che portano fuori le mura di Hogwarts passaggi segreti tutti riportati sulla mappa del malandrino 3 2 1 via 7 7 7 7 7 esatto sono 7 sono esattamente 7 bravi bravi sono 7 esatto non sono non sono 3 non sono 4 sono 7 me ne mancavano 5 esatto più quello della stanza delle necessità però ha ragione Tonino quelli riportati e conosciuti di Hogwarts sono 7 nel senso se tu se si chiede quali sono i passaggi segreti quanti sono i passaggi segreti di Hogwarts sono 7 quelli conosciuti ciao Chiara ben arrivata ben arrivata grazie grazie non c'è scritto nella domanda ma di solito si risponde sempre così cioè sono 7 i passaggi segreti di Hogwarts più infatti l'avrei spiegato uno ci prova il via è relativo ciao Giulio passo per la buonanotte ho già letto risposto qua qui c'è un complotto qui si scrive prima io aspetto il via arrangione Tonino più quello della stanza delle necessità di Ariana che però di cui veniamo a conoscenza soltanto nel settimo libro in realtà di solito non ci interessa ci battiamo per la verità esatto quindi quindi in realtà non si conta di solito in quei 7 di quei 7 soltanto 4 poi in realtà li conosciamo proprio noi come lettori e sono quello della strega orba che si apre con Dissendium quello del platano picchiatore quello dietro lo specchio del quarto piano e quello dietro la statua di Gregory il viscido che Giulia scrive le domande ma la vera domanda è quella che fa a voce bravo mister Simo così ti voglio Luca Sciglione il giusto vuoi essere premiato da Aslan Luca come Peter Peter il giusto Repeter il giusto prossima domanda come si fa a fermare il nottetempo per salire 3 2 1 via era bellissimo nei giochi per la playstation poter usare i passaggi metti fuori il braccio essere in pericolo fischio essere in pericolo agitando la bacchetta facendo un incantesimo se si ha necessità alzare la bacchetta pericolo buttarti a terra bisogna sollevare la bacchetta in prossimità del marciapiede Pasquale il preciso questa mi piace infatti Harry lo fa a caso lo fa totalmente per caso esatto esatto metti fuori il braccio allora tornando all'inizio metti fuori il braccio l'accetto come risposta Luca ok essere in pericolo no agitando la bacchetta no facendo un incantesimo se si ha necessità no alzando la bacchetta sì bisogna alzare il braccio così proprio quindi Chiara e Pasquale alzare il marciapiede in prossimità della bacchetta dice Iuri ti metti davanti mentre sta passando meriti 30 punti che poi è come fermi il bus normale a Genova anche a Roma funziona così infatti è cioè mi è sempre piaciuta come cosa perché è proprio come fermare l'autobus normalmente quindi ho sempre apprezzato questa cosa altrimenti se ti vede non si ferma sì sì ma pure da noi funziona esattamente così sto perdendo tutta la mia voce nel frattempo andiamo avanti abbiamo quasi finito andiamo avanti ce la faremo arrivare siamo già oltre l'orario ma ormai dobbiamo finire qual è la prima scena girata di Harry Potter e la pietra filosofale 3 2 1 via bravi ma bravi ma bravi bravissimi mi arrendo per manifesta inferiorità giustizia come io primo come tu primo ah il finale scusa Luca non mi ero perso totalmente il tuo commento era proprio scomparso e allora allora mi prende Luca 15 punti Pierrot 10 e Chiara 5 e Tonino non mi prende punti però sappiatelo così così giusto scusa Luca scusa sorry 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 veri conoscitori in chat io ero quarto ce la fa la coperta è corta no Tonino lo so ma giustizia per Luca Ciglione è stata fatta è stata fatta andiamo avanti come si chiama il luogo dove abitava il padre babbano di Tom Riddle 1 2 3 via brava Fedes bomarzo Tania bellissima questa risposta 5 punti per te bravissima mi è piaciuto un botto Fedes Tonino e Mr. Siamo bravi vedi che alla fine i punti arrivano mi è piaciuto un botto la sua risposta mi ha steso totale questo è difficile abito vicino lull attenzione si scoprono vicinanze ma messa alta e non è la prima volta mannaggia vale Viterbo abito vicino Viterbo ah scusa non si era partito un uno uno sticker questa è lunga e potrebbe essere difficile a dog's made oltre i due pub i tre manici di scopa e la testa di porco si trova anche una sala da tè dove vanno Harry e ciò per San Valentino come si chiama tre due uno via mamma mia Fedes sul pezzissimo sul pezzissimo attenzione bravo Luca Fedes Chiara e Luca attenzione Fedes Chiara e Luca bravo troppo difficile questa era difficile questa era difficile non ho idea ma se qualcuno scrive so che è giusta le uniche occasioni in cui posso sfruttare le riletture dei libri Fedes merita un biglietto per Orlando esatto esatto ultima di questa sezione e poi rimasta solo una sezione ok pronti come si chiama l'incantesimo che unisce la bacchetta di Harry e quella di Voldemort nel loro duello al cimitero facile un due tre via quello due parchi così fa pure Logos Express priori incantazio priori incantazio ve l'ho detto che questa era facile priori incantazio eccetera Luca Tonino e Vale attenzione Luca Tonino e Vale che odio che podio che odio che podio ci sta priori incantazio bravissimi legame è un legame sì visto Tania comunque la risposta è giusta anche se non è il nome dell'incantesimo e qui ci dirigiamo all'ultima sezione che è incantesimi pozioni e altra magia pronti? ma che ti amo vado a fare del popcorn per il rush finale dissenito in 80 poi sarà divertente contare i punti quale incantesimo apre il passaggio segreto della strega orba che porta a Mielandia attenzione nominato prima attenzione nominato prima attenzione nominato prima un due tre via non l'avevo detto scusate sono una scema io stavate aspettando me I'm sorry avevo dimenticato di dire il via stavate tutti lì pronti col dito su invia scusate scusate allora chiara prima tu clear six non è alomora fedes giusto e pasquale chiara fedes e pasquale pasquale ok orbus orbus era dissendium bravi sono anni che cerco di farmelo regalare senza successo no te lo regala Giulia se vinci Giulia che cerca di fare false partenze alla chat è totalmente involontario tra l'altro totalmente totalmente involontario dissendium ciao luca via ti è arrivato solo adesso scusami avevo dimenticato io di darlo anche tonino è andato male stavolta però biglietto aereo e per notto mi avrà eco mi sembra eco colin can dai mancano tre domande tre domande da quale libro ermione impara l'incantesimo alomora libro e capitolo se lo sapete se no mi sta bene solo il libro 3 2 1 via manuale dell'incantesimo libro primo primo incantesimi standard libro primo libro incantesimi incantesimo e bo manuale dell'incantesimo primo incantesimi standard 1 incantesimi capitolo 7 bravo luca libro standard degli incantesimi capitolo 7 alo che alo homora è l'incantesimo che apre le porte manuale degli incantesimi libro primo allora luca si merita i 15 punti perché è l'unico che mi ha detto il capitolo 7 quindi direi che luca si prende i 15 15 punti intanto io avevo totalmente frainteso la domanda primo tirare la maniglia no se sono chiuse a chiave non c'è la chiave all'omora potrebbe aprirsi addirittura hai visto esatto giustizia è fatta io direi poi manuale degli incantesimi primo avevo chiara e e ilarina chiara e ilarina finalmente giustizia esatto era la domanda del doppio dei punti no no non era la domanda del doppio dei punti no 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 piede di porco e passa la paura la domanda del doppio dei punti non la facciamo non la facciamo valgono tutte uguali anzi potrei farla alla fine ma su di me vediamo 29 come si apre e si chiude la mappa del malandrino facile 3 2 1 via meno facile da scrivere a dire la verità ma via quindi qua ci vorrà un attimo per scriverla apertura bravissima chiara brava vale e dance floor quasi 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 chiudite ok ce l'ho solennamente di non avere buone intenzioni ce l'ho solennamente fatto il misfatto ok allora chiara sicuramente vale vale luca hai scritto solo solo l'apertura però non hai scritto il finale eh quindi non te la posso dare in buona e 2 clear 6 bravi bravi questa era facile questa era facile pasquale sempre super preciso comunque sì ma lunghissima esatto no dai giuro prometto sono simili mi si diano 10 punti per pietà sì 10 punti a dancefloor e a dancefloor come a tania prima come a tania prima ok ma infatti sì povero luca è colpa del lag giustizia per per luca ciglione la chiusura per primo dove sta ah luca mannaggia mi perdo i tuoi pezzi scusa vabbè però chiara vale e chiara e vale comunque hanno scritto tutto prima di te tutto nel senso prima di te ecco quindi dai do 5 punti a te come a tu clear 6 va bene oh visto che anche tu clear 6 ha chiesto giustizia per luca ciglione te le ho dati 5 punti te le ho dati come umana lei esatto ultima domanda ragazzi ultima domanda preparando quale pozione Harry si aggiudica una fiala di felix felicis 3 2 1 via no mister simo era tu clear 6 terzo distilato della morte vivente bravi chiara fedes e tonino pinguino attenzione bravissimi bravissimi adesso ci sarà da ridere a contare punti qua nel frattempo mo li contiamo insieme ma vi faccio la domanda ve la faccio la domanda che vale il doppio dei punti ve la faccio ok su di me però in base a tutto quello che vi ho raccontato qual è il mio oggetto magico preferito 3 2 1 via questa vale il doppio dei punti attenzione attenzione brava vale brava vale nitten e mister simo i primi ma avete indovinato tutti però bravissima pure silvia ha indovinato attenzione beh ma ma quello che ho raccontato stasera intendevo eh tonino bastava quello per poterci provare detto il terzo è il mio libro preferito il mio capitolo preferito è il segreto di ermione eccetera eccetera sì sì Tania hai fatto super 10 punti no non sei stupido tonino non dite non dite queste cose dentro dentro le mie chat non ho svalutazione dentro le mie chat eh attenzione Tania 79 nazionale esatto esatto allora abbiamo detto vale ehm Niten e mister simo e mister simo ok 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 allora sono una brutta persona poco fa hai detto che mi sono stati regalati no non volevo dire regalati i tuoi sono stati meritati però dopo ti ho dato anche altri 5 punti per un'altra cosa Tania per un'altra cosa ti avevo dato altri 5 punti attenzione non intendevo quelli eh allora sono una brutta persona mi era andata via la connessione proprio quando ne parlavi no Ilarina mannaggia per fare la somma dei punti serve un computer quantistico esatto probabile probabile 5 per bomarzo esatto per quello per quello esatto allora fatemi contare qua che è un casino Ilarina qua abbiamo 15 Ilarina mi ha fatto 15 una volta poi 2 10 3 10 4 10 quindi 40 più 15 e 1 2 3 Ilarina ha fatto 70 ok fai prima a fare un excel guarda buonanotte Yuri buonanotte fai prima a fare un excel a giro tempo servirà per tornare indietro impedire a te stessa di segnare i punti a mano sulla carta si esatto bravi tutti tranne me calcolo calcolo vedo quelli che hanno risposto più volte su 15 facciamo così poi vi pubblico la classifica intera ve la pubblico sul telegram di dungeon dice però per stabilire il video e adesso vi 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 triggero qua il gruppo telegram così poi potete andare a vedere quindi faccio il calcolo su quelli che hanno risposto più volte 15 che tanto avete più o meno risposto in tutte e tre le categorie tutti quindi chi ha risposto 15 ha sicuramente più possibilità di vincere però anzi siccome siete tanti facciamo così così ci possiamo sfottere siccome siete tanti facciamo una cosa più semplice di tutti io calcolo tutti i punti precisi e vi pubblico tutta la classifica sul gruppo telegram di dungeon dice e il vincitore mi sarebbe piaciuto farlo in chat ma non avevo calcolato che sarebbero stati così tanti e che sarebbe stato così 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 lungo quindi il vincitore verrà nominato VIP del canale e arriverà la notifica e pubblichiamo anche lo screenshot fuori dalla live va bene? va bene? Silvia sei d'accordo? Facciamo così se no siamo qua altre sei ore con me che calcolo i punti ed è un casino lei sottovaluta il potere del lato oscuro di questo canale ci piace? bene ok la attenderemo come i quadri del quinto superiore tuttavia tuttavia Silvia potrebbe dare punti a qualcuno lì verrà scritto sì certo perfetto perfetto ok ok bene allora ci spostiamo un secondo in just the chatting ok allora grazie intanto per essere stati con me questa sera vi ricordo che vi aspetto domani alle 12 e 30 di nuovo sempre io sempre me e per guardare per guardare insieme un sacco di video di tiktok non andate via perché voglio farvi piangere stasera abbiamo parlato malissimo dei film di harry potter ne abbiamo parlato veramente tanto 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 male 100 dungeon points a Tania sarebbero doputi 100 punti a grifondoro abbiamo parlato tanto male ma comunque almeno io ci sono super 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 legata e stasera quindi volevo salutarvi facendovi piangere nuovamente come ho già fatto lunedì facendovi vedere una cosa quindi vi do gli appuntamenti poi vi faccio vi faccio vedere vi faccio vedere questa cosa la vediamo insieme questa cosa c'è anche la suspense chissà chi sarà tra Ilarina Chiara Gro Luca Sciglione già VIP e Fedes 93 attendo con ansia esatto credo che Fedes abbia vinto con margine ma pubblicherò la classifica pubblicherò la classifica quindi vi aspetto domani alle 12 e 30 domani sera invece vi aspetta Silvia alle 21 con esci da questa live e tutti i giorni insomma trovate Dungeon Dungeon Dice TV live nelle due nostre fasce orari principali 12 e 30 e 21 e qualche volta il venerdì alle 17 e 30 forse anche questa settimana forse o sicuramente chi lo sa continuate a seguire il canale Telegram non ve ne andate vi saluto con un video in cui vedrete anche me tra l'altro perché è la stessa schermata di prima quindi vedete anche la mia reazione in diretta vi anticipo che di solito io questo video lo guardo quando voglio piangere ok perché è vero i film di Harry Potter non sono la stessa cosa dei libri ma ci sono cresciuta insieme con gli attori che hanno interpretato i film e quel video mi uccide sempre mi uccide sempre grazie davvero a tutti voi ma vi risaluto appena finisce il video intanto silenzierei il tappeto musicale ci spostiamo sull'altra schermata pronti? non siate pronti mazza Pierrot mi hai chiamato subito un po' 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 è vero Mr. Simo concordo concordo grazie Saitama per ritirarci su hanno vissuto dieci anni tutti insieme cioè quel giorno una botta incredibile e l'abbiamo vissuta tutti con loro questa rottura è stata potente eh sì infatti sì esatto Chiara sempre così the chosen ones esatto e i loro pianti erano i nostri pianti quando è finito quando è finito tutto pensa tra dieci anni quando chiuderà la giornata di stivu e ci ricorderemo dei progli di questa live no Luca no ragazzi grazie infinite di essere stati con me grazie anche alle vostre battute che per una volta sono riuscita a non piangere anche se ho quasi pianto durante questo durante questo video facciamo ride quindi non ve ne andate io vi auguro un enorme buonanotte vi aspetto domani alle 12 e 30 e grazie grazie infinite è stata una live una live stupenda grazie 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 grazie